San Norberto Nacque verso il 1080 a Xanten, sul Reno, da De Gennep, vassallo degli arcivescovi di Colonia. Presto, canonico, entrò alla corte dell'imperatore Enrico V. Un giorno, per strada, fu colpito da un fulmine. Sopravvissuto per miracolo, considerò l'episodio un ammonimento del Signore e si ritirò in monastero. Ordinato sacerdote a Colonia, cominciò a predicare la pace civile, tanto da meritarsi il nome di Angelo della Pace. Nel 1121, con 40 compagni a Premontre, in Francia, fondò l'Ordine dei Premo Stratensi, secondo la regola di Sant'Agostino e San Benedetto. Mandò i suoi Premo Stratensi ad annunciare il Vangelo presso i popoli dell'Est Europa e Papa Onorio II lo nominò arcivescovo di Magdenburgo. Patrono della Bohemia e protettore delle partorienti.